Benvenuti a Radio Fuggino NER. Vi porto dentro una delle chat politiche più esplosive degli ultimi tempi, quella di Fratelli d'Italia. È emersa una furiosa sfuriata della Premier Giorgia Meloni, arrabbiata per la fuga di notizie che ha raggiunto i giornali. In questa puntata esamineremo il suo sfogo, i dettagli di una conversazione privata che sta scuotendo il partito. La Premier Giorgia Meloni si è scagliata duramente contro alcuni membri del suo partito, Fratelli d'Italia, accusandoli di aver passato alla stampa delle conversazioni riservate. Questo è accaduto dopo che diversi giornali hanno pubblicato i dettagli di un messaggio inviato ai parlamentari riguardante l'importanza di presentarsi puntuali in aula per le elezioni di un giudice della Corte Costituzionale. Meloni ha manifestato il suo sconforto in una chat interna al partito dove ha dichiarato, cito testualmente, «Io alla fine mollerò per questo, perché fare questa vita per fare leggere sta gente anche no». Uno sfogo duro che tradisce la frustrazione della Presidente del Consiglio nei confronti dei suoi collaboratori. In particolare Meloni ha accusato «l'infamia di pochi che, per ottenere visibilità sui giornali, sono disposti a tradire la fiducia del partito». Ha detto chiaramente «c'è gente che per una citazione sul giornale si vende la madre». Al centro della discussione l'elezione di un nuovo giudice della Corte Costituzionale è un tema cruciale per il governo, che richiede una maggioranza qualificata di tre quinti, ovvero 363 voti. Al momento il centro destra è fermo a 360 e finora ci sono stati già sette tentativi falliti di eleggere un giudice. Il prossimo scrutinio sarà martedì e tra i nomi più papabili spiccano Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Meloni, e Carlo Deodato, segretario generale di Palazzo Chigi. Il messaggio sulla necessità di essere presenti per questo importante appuntamento è stato inviato anche ai membri della Lega e di Forza Italia, ma è stata la chat interna Fratelli d'Italia a finire sui giornali. Questo ha portato la Meloni ad uno sfogo furioso, pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano, dove ha affermato «L'infamia di pochi alla fine mi costringe a non avere più rapporti con i gruppi parlamentari». Molto sconfortante davvero». Nelle chat Meloni ha trovato il supporto di alcuni membri chiave del partito, come la sottosegretaria all'interno, Vanda Ferro, che ha cercato di consolare la Premier scrivendo «Immagino come ti senti». Anche Paola Frassinetti, sottosegretaria all'istruzione, ha espresso rabbia ed elusione condividendo il sentimento di tradimento. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha suggerito una sorta di indagine interna per individuare il responsabile della fuga di notizie, affermando «Beh, però, penso che lavorandoci un po' l'infame si trova». Ma Meloni, con una risposta secca, ha ribattuto «Questo è ovvio, pensi che io non lo sappia già, ma non cambia la natura delle cose». Anche Salvatore Deida, presidente della Commissione Trasporti, ha cercato di incoraggiare la leader di Fratelli d'Italia, dicendo «Io spero che chi sia stato faccia ammenda e capisca che ci sta danneggiando continuamente». Tuttavia, la Meloni ha respinto questa ipotesi con toni aggressivi, dicendo «Ma quale ammenda? C'è gente che per una citazione sul giornale si vende la madre». Una chiara manifestazione del suo disgusto verso certi atteggiamenti all'interno del partito. Nonostante la tensione, alcuni membri dei Fratelli d'Italia hanno tentato di sdrammatizzare la situazione e Galeazzo Bignami, viceministro ai Trasporti, ha scherzato scrivendo «Ma quindi non posso mandare i messaggi di questa chat. Mannaggia, avevo già pronta la foto di ricompensa». Deida, a sua volta, ha cercato di alleggerire il clima, commentando «Comunque hai notato che con me e Galeazzo come funzionano i trasporti? Impeccabili». Ma è stata la Meloni a sorprendere tutti con una stoccata apparentemente rivolta al ministro dei Trasporti Matteo Salvini. In un tono sarcastico ha dichiarato «Pensavo saremmo tornati al dorso di Mulo, invece ci sono ancora i treni dopo due anni». Una battuta che molti hanno interpretato come una critica all'operato di Salvini, evidenziando una tensione sotterranea all'interno della coalizione di governo. Questo sfogo di Giorgia Meloni mette in luce le difficoltà di gestire una squadra politica variegata, talvolta poco coesa e spesso poco onesta, da quanto si vede. La Premier, nonostante il suo ruolo di leadership, si trova fronteggiare non solo le sfide esterne, ma anche divisioni e tradimenti interni. La questione della fuga di notizie rappresenta solo l'ultimo esempio di una crescente tensione all'interno del suo partito, Fratelli d'Italia, e della sua coalizione di governo, dunque una maggioranza che appare sempre più fragile. Fatemi sapere, come sempre, cosa ne pensate voi nei commenti del nostro episodio. Grazie per averci seguito su Radio Fuggino NER. Vi invitiamo a restare sintonizzati per ulteriori approfondimenti sui principali temi politici che scuotono l'Italia e, a volte, il mondo intero. Non perdete i prossimi episodi dove continueremo ad indagare sui retroscena della politica italiana. A presto.